ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di fanatasi xx 10 o 10 e allora l'ultima volta eravamo rimasti proprio qui al scontro contro le due guardie guado e il wendigo wendigo si chiama sto stronzo 18 mila di vita quindi come anima e scan ci già ci da solo la ci da un attimo una descrizione se curiamo berserk diminuisce la potenza fisica ma non si sa quindi allora facciamo una cosa andiamo al timariche c'ha scan e cerchiamo di prendere qualche informazione da questo wendigo ok allora sfera sono attacchi fisici quando alza le braccia in postura offensiva e subisce un attacco fisico contraattacca con potenza fisica distruttiva ok quindi quando alza le braccia niente attacchi fisici va bene ecco mi ha fatto berserk madonna ecco ci fa due guardie questo fa male porca troia ma no 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 è troppo potente cioè scusa e allora no proviamo a togliergli diversa come cazzo gli si toglie berserk chiusa è non così va beh allora facciamo una cosa usiamo un nuovo turbo di wakka giudato attacchi possiamo riuscire a fare 12 colpi e adesso vi faccio vedere abbiamo già sbagliato vabbè a me ne facciamo cazzarola vabbè a meno una guardia quadro si è rotta e salvata dai coglioni figlio di puttana prima di morire ho fatto protest ecco perché non era caduto figa non stiamo andando per niente bene qui ragazzi aiuto il scontro sta andando molto male allora piano piano che ce la facciamo ecco chumari chumari però in tour è super turbo tipo allora è reit e lo usiamo il turbo di chumari allora allora vediamo cosa posso fare adesso aurum ma no c'è auto pozione vero che deficiente però aurum è ancora vivo grande aurum allora facciamo una cosa come cazzo vi si toglierete a secolo di chumari cazzo vi si toglierete a secolo di chumari ok allora chumari usiamo il turbo su facciamo fuori la guardia se riusciamo un salto magari c'è la tutta mica 1200 precisi c'è la vita precisa del guado gli ho tolto vabbè bravo chumari che ti sei sacrificato per la patria allora oggetti cazzo vi si toglierete a secolo di chumari 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 facciamo slow magari non ha la guardia c'è la guardia forca puttana che facciamo lo proviamo a attaccarlo con la magia vediamo quanto aiuta perché non abbiamo ancora tolto niente però c'è shell figlio di puttana mancatissimo grande titus allora facciamo aste su lui ancora una volta le magie saranno vediamo magari imparare qualcosa non imparare un cazzo ok parca puttana se sei bastardo sei proprio bastardissimo allora crema a far questo che aiuta la destrezza quindi a evitare gli attacchi schivalo ah non ha fatto niente ancora dai ancora magari schiediamo il prossimo attacco non sarebbe male no lo prendiamo in pieno porca di una madonna allora facciamo così quello di fenice è difficile questo boss caffè potentissimo premonizziamoci facciamo aste su yuna ok poi mandiamo ricco guarda usiamo una mega pozione che ci ripestiamo tutti i hp di tutti almeno vaffanculo ok e poi usi protect prima su te stessa ecco vabbè ricco si sacrifica per la patria poi usiamo protect su tidus e facciamo incentivo va così almeno ci proteggiamo dalla furia del vendingo mancato tetis sta bene poi usiamo protect ricco e siamo tutti protetti oh ce l'abbiamo fatta dobbiamo dare un turbo a coppia a mischiare a mischiare cazzo ne so vediamo oh razzo elettrico va neanche cazzo viene fuori elettro twister boom wow oh fico forte dai mica male ok ok prammo viola ok rallentato è che servirebbe l'oggetto non c'è un oggetto che toglie il berserk no magia no esna non funziona cosa posso fare ancora vediamo no io non serve più a niente passivamente allora facciamo così magari possiamo usare anti-liss e diminuire il suo danno migrito esatto ah mancatissimo stop allora evitiamo Yuna e usiamo Protect anche su Auron ok e anche energia cazzo vi ho detto gli M2 stop mancato ah ah coglione andiamo Lulu magia nera qua sarà una lunga lotta tecnico anti-liss ah è già in stato anti-liss bene attacca non è andata avanti così però scusa usano asche anche su di te eh è dione mi manca sempre no facciamo bui zero visto che sia su di altro ecco attacca niente andiamo avanti così finché non schiacca e poi chiamerò gli eoni per l'ultra cilio ok mancatissimo wow ok stop mancato sta mancando tutti allora Yuna è il tuo turno allora chi possiamo invocare sperando che non venga ucciso quello con più vita di tutti che è Yfrit proviamo allora vediamo facciamo una cosa speriamo attaccare con una magia eh che poi è normale eh dai meglio facciamo no minchia cura ecco poi c'è un'attacca e siamo in turbo e vai speriamo nell'ultracidio ragazzi dai 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 si ciao Wendingo ciao grande Yfrit un po' stanco ma se l'ha fatta è quasi morto ok oddio cosa succede what is happening ecco è vivo figlio di puttana cosa fa fermate no cazzo distrutto distrutto il lago ghiacciato tutti esperienza armiga bel viante si oddio che è successo ragazzi che è successo ragazzi che è successo che è successo se ero un follower di Yvonne perché siamo tutti e in un piatto anche se avevo un rischio di chiamato che era in store per noi next siamo vivi e c'è una salvosfera vabbè usiamola ok dove dove caspiterina siamo guardate il lago di Macalani a fondo del lago ok vabbè intanto sviluppiamo un attimo la gente tanto si muovono di poco quindi allora sì perché prima Windlingo ha distrutto il appunto lo strato di ghiaccio del lago quindi siamo caduti di sotto siamo tutti vivi cioè ma non muore nessuno di noi mai sospira allora ecco HP di Kidus abbiamo lei che ha rischi la difesa magica ecco Kimari facciamogli prendere questa tecnica che non so cosa sia furto anzi qualche non ruba gli strumenti ma i soldi HP di Lulu che fa in comodo e Waka IMP ok bene allora eh Lulu siamo sotto l'esercito non credo sì forse guarda è il bottom del tempio ah sì è il pezzo che abbiamo fatto noi per entrare nel tempio no non è quello non ho capito boh ok ehi Auron non ho capito che ora mi chiedo cosa ora mi chiedo ora tu acti prima e pensi prima non ti non ti non ti non ti puoi essere un po' più responsabile in i tuoi amici, ma non puoi aspettare di qualcuno di proteggerti tutto il tempo. Ti dovrebbe fare bene per ricordare quello. E' questo un discorso? È consiglio. Ok, allora, di qua non c'è niente, vediamo. C'è Waka! Ehi, Waka! Ehi, Waka, potresti riuscire? Guarda, abbiamo solo fatto quello che avevamo bisogno di fare. Non importa, non lo vedete? Ho sempre passato il passaggio di Yevon. Ma ora, sono un traitor! Come potrebbe succedere? Scusa! Non è la culo di Riku. Non so come sento. Ah, che dudone! Di qua c'è qualcosa, no? Di qua? Niente. Vabbè, andiamo da Riku. C'è sicuro che Yuni è ok. Lei si respira bene e tutto. Ah, meno male. Com'è Lulu e Waka? Hmm... Beh, Waka è in sciocco. Non lo scordare anche lui. E Lulu? Beh, è proprio la stessa cosa sempre. Sì. È così insieme. Sì, credo. Lui non poteva ricogliere. Beg che si ritrova... Credo. Beh... Dicami 5 o 6 mila metri. Dicami 5 o 6 mila metri. E quindi, Kimari, come siamo fuori? Eh, non cambiare il tema! Sì, si riusciamo. Sì, si riusciamo. Kimari anche. Solo i che provano, saranno. Ha? Credo che significa... che devi lavorare molto, se vuoi essere come Lulu. E soprattutto farci una plastica... Un ammasto plastica Credo che sia Perché è tette di Lulu Non uguali a tette di Riku Ehi, stai dicendo che non sarò come Lulu? Kimari! Come puoi riuscire a un tempo come questo? Yuna? Sveglia, sveglia Aspetta, aspetta, però prima c'è il fruttiere che stava dietro il culo di Riku Quello io me lo ricordo Fatemi andare a prendere Mi sento di confrontare il signor Seymour su suo padre, Lord Jiskol Mi sento di convincere il signor di riuscire a giudizio di Yevon In intercambio per il marito? Sì, se è quello che si è avuto Quindi, cosa ha detto Seymour? Si è venduta alla figa Seymour Si è venduta alla figa Seymour La nostra preoccupazione immediata è il pilgrimaggio di Yuna. Sei dispiace di continuare? Sì. Ma allora... pensi che Yevon lo permette? La fede sono i quelli che diamo il potere ai suonatori. Non i tempi o i insegnanti. Se i tempi cercano di stoppare noi, noi dovremmo diventare Yevon se dovremmo. Non mi credo che hai detto! Sir Orin? Mi senti. Ci sono bisogno di attaccare per le pezzi che abbiamo committato. Ovviamente. Non è come che io ne abbia mai piaciuto il Maestro Seymour. Non è possibile che non mi perdere il per il giudere di Lord Gisco. E per provare a fare noi in due, sai? Ma ancora... Ci siamo andati che in controllo Yevon? Non è possibile! Ma ancora, abbiamo transgressato e dovremmo affrontare il nostro punizione. Dobbiamo andare a Bevelle. Dobbiamo parlare con il Gran Maestro Micah e raccontare cosa è successo. Non c'è altro modo, credo. Sì. Sir Oran? Quindi è deciso. Volevi venire con noi? Sì. 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 Kimari rirà e Oran rirà. E... Non ho chiesto che mi segui. Sì. 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 Non sei da Zanarkand. Certo? Sì. Come avuto a venire a Zanarkand? Perchè allora vuol dire che io posso tornare dietro? C'è? Sì. C'è un modo di tornare allora, scusate, lui da Spira Sin era il link tra Zanarkand e Spira Che significa che se uccidiamo Sin Non potremo andare a casa C'è qualcosa, c'è qualcosa che non provo Eh? Eh? La sanguazione è stoppita Oh cazzo C'è qualcosa qui Un terremoto Oh figa È Sin Ma dov'è? Sin! E' già le tossine Ma non un balenone di 24.000 tonnellate E' allora che ho avuto Che Sin E' davvero il mio vecchio Ah Per la prima volta E' finalmente potrei crederlo Quella unione? Ma che cazzo La canzone Che tu stavi ascoltando Cosa è questa volta? Che succede? Un incontro oltre La mente Zanarkand La testa è in giù 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 Sì. Vuoi che questo finisca? Ho trovato un modo, prometto. Ok. Sono vivo. Sono sveglio. Da qualche parte sconosciuta. Dove sono? Oh my god. Dove? Where am I? Oh, un forziere! Forziere, l'ho visto! Ok, ma dove cazzo? Perché è un deserto? Oh, dove sono? Dove cazzo sono finito? Lo scopro questa volta. Sia bene per un tempo, ok? Boh, salviamo la partita intanto. Oh, sono solo io in squadra, non c'è nessun altro. Ok. Andiamo. Siamo proprio in un deserto. Sconfinate. Oh, cazzo! Oh, buongiorno! Ciao! Piccolino da 12.000 di vita! Cioè, sei un mini boss praticamente. Mazzà che male! Oh! Contrattacco! Guarda che uso il turbo, eh? Figlio di puttana! Ammazzo! Colpo spirale! Ma non gli faccio un cazzo comunque! Ho preso carica assalto! Nuovo turbo! Puttana troia! Che male! C'è Auron! Ciao Auron! Grazie! Sei vivo! Amico mio! Uccidi! Uccidi il mostro! Tundara! Chi è? Lulu! Ciao Lulu! Amica tettona! Aspetta, però Tidu sta morendo. Quindi, curiamolo un pochino. Un pochino! Dai che tetto è una bella mega pozione! Gran pozione! Per quale gran tetto! Aia! Attacchiamo! Muori! Dai! Tira! Dai che in tre ce la facciamo! Yeah! Fuoco! Stop! Buong, sì! Ni stupido! Sincero! Chiama Zuuuu! Boom! Fuck you! Che roba? Milla! Uh, si è bassato! Buongiorino! Quindi? Adesso stacca così. Vabbè, ok. Mori! Mori! No, non morirà neanche adesso. Ok, però ci proviamo. Schiva! No, cazzo, ci prende. Boom! Avrano in turbo! Sì, l'ammazza. Yeah! Ok. Albaidina, che cazzo è? Ah, ha una testona. Gli altri? Eh, speriamo che siano qua, cioè, in questo luogo. Guarda qui se vuoi. Non è... Vabbè, allora, siamo in tre. Viopriamo Kydos. Vabbè, mi trova preso il punto, ok. Però, proviamo un attimo la gente. Ecco. Allora... C'è qualcuno? C'è Waka! 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 Waka, gare! Sì, è l'ombra, eh? Eh sì. Però siamo tutti vivi, sembra. È bella domanda. I guardiani hanno perso l'invocatrice. Allora, perdono l'unico. Allora, sono l'ambusso dalla macchina. È un buon giorno che ho avuto. È stato assalito dalle macchine. Cosa? Vabbè, qui c'è un forziere. È un po' diverso dagli altri, eh? Kit di pronto soccorso. Cassetta riposta nel deserto dagli Albed per i casi d'emergenza. Otto unità di Albedina. Ma cos'è questa Albedina? Cura, veleno, autismo, pietra e recupera 1000 HP a tutti. Però non la posso usare. Cos'è sta storia? Vediamo. Allora, sono lì. Wow! Questa è una mappa, ma... Cosa ne so io di cosa c'è in quella zona? Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Uh! Kimari! L'ho visto, l'avete visto? Di... Di fianco, eccolo qua. Kimari, vieni! Eh, è troppo ripida quella salita. Yuna è venuto. È non tua fault, Kimari. Eh, lo so. Dai, cerchiamola, Kimari. Ok, abbiamo... Siamo quasi tutti. Manca Riku. E Yuna. E cuglioni. E cuglionita. E voi chi cazzo siete? Salve! Ah, oh! Tove! Non ti ho preso, questo è interessante. Ma sei figlio di puttano, muori! Bello! Bello ultracidio! Allora, per quel coso volante, chi... Andiamo a capriccio! Andiamo a capricciare! Eh, vabbè! Andiamo a capricciare! troveremo qualcun altro oddio le macchine sono deboli a tuono sono anche deboli per passima inquadratura però c'è non si è visto un cazzo e poi l'uno che lo fa fuori con il tindara yes ultracidio ok gran pozione bene andiamo avanti nel deserto dei gobi per chi non lo sapesse il deserto della mongolia dove vennero ritrovati i veloci raptor si non ve ne crediamo cazzo ancora ancora beh cavoli bella sorpresa chi ma riesce a prendere creature volanti a volte diciamo sia questa volta c'era fatta buon per lui e oltretutto quel cosi ecco riku per così volanti infliggono stato sblinda a volte se ci colpiscono ho entrato la telecamera boh non lo sappiamo riku non è già se buona solo avere tette grosse sai dove è una eh che pregiunto che abbiamo fatto tutto il mare ok ah che ci sono degli albed su quest'isola c'è la base degli albed certo tranquillo va bene ricco si cazzo yevon di merda figa se sei ottuso chiamano la merda waka waka cazzo va bene bene dobbiamo seguire riku ah però aspetta ci sono dei forzieri che noi apriamo albedina ah c'è anche una salvosfera beh allora ragazzi direi che questo è un attimo punto per fermarci allora abbiamo sconfitto wendingo mandingo e siamo arrivati su isola bicanel dove c'è la base degli albed e riku adesso ci porterà da loro probabilmente yuna è già con loro dice orai mentre l'hanno trovata l'hanno portata in salvo e beh quindi anche per questa volta è tutto ragazzi da mattia mazzo ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti